E adesso cambiamo argomento. Un team di giovani bolognesi ha ideato un software per connettere meglio cittadini e amministrazioni locali. Comuni Chiamo, questo è il nome del programma, è stato premiato dalla Bocconi come start-up innovativa. Sono già 60 i comuni che lo utilizzano, da Treviso a Ragusa. Vediamo. Sono partiti in tre nel 2011, quando erano ancora studenti universitari, con l'idea di sviluppare un progetto ambizioso quanto complicato, semplificare la comunicazione fra cittadini e amministratori locali. Oggi sono in cinque. Il software che hanno sviluppato è già una realtà in 60 comuni italiani, da Treviso a Ragusa. Comunichiamo è il nome dell'applicazione che permette ai cittadini di segnalare in tempo reale i problemi della città, a chi se ne deve occupare, dalla buca nell'asfalto all'ampione rotto, e a chi deve risolverli, di prendere in carico la segnalazione e avvertire a lavori finiti i cittadini. Il bilancio di questi quattro anni di lavoro del team bolognese è positivo ed è stato premiato dalla Bocconi come start-up innovativa. 38.000 segnalazioni chiuse, oltre 1.800 dipendenti delle amministrazioni che usano Comunichiamo, 3 milioni e mezzo di cittadini raggiunti, ma soprattutto il 30% di tempo in meno per intervenire. Ci occupiamo noi dell'installazione del gestionale, della formazione, del supporto, abbiamo già fatto questo percorso con 1.800 persone che lavorano nel Comune, quindi sappiamo quali sono le loro esigenze, le loro difficoltà, ci ne occupiamo noi, quello che chiediamo è un po' di fiducia, un po' di apertura verso il cittadino, perché le cose, se preparate, se fate bene, con gli strumenti giusti, portano a risultati ottimi. I cittadini possono finalmente trovare un interlocutore e il Comune, o meglio gli operatori comunali, chi lavora quindi in Comune, imparano, capiscono che rispondere a cittadini non è un qualcosa che gli creerà problemi, ma un qualcosa che aiuterà per le relazioni che hanno attualmente anche in futuro.